La dignità della vita non si spegne quando l'uomo è avvolto dal mistero della sofferenza. In ogni ferita, nella fragilità di un'esistenza emarginata, lo sguardo di Maria può infondere nuove speranze, quella forza che ci fa rialzare e ci sostiene. Come nel 1993, quest'anno, da venerdì 10 al lunedì 13 febbraio, il Santuario di Lourdes torna ad accogliere sotto il manto della Madre di Dio le celebrazioni della Giornata Mondiale del Malato, istituita 25 anni fa da San Giovanni Paolo II. A presiedere la Messa Solenne dell'11 febbraio, festa della Beata Vergine di Lourdes, il Segretario di Stato, Cardinale Pietro Parolin. Un'occasione preziosa per infondere, come ha sottolineato Papa Francesco nel messaggio per questa venticinquesima Giornata Mondiale del Malato, un nuovo slancio verso la diffusione di una cultura rispettosa della vita, dell'integrità e della dignità delle persone, anche attraverso un corretto approccio alle questioni bioetiche, alla tutela dei più deboli e dell'ambiente. Alla presentazione del programma delle celebrazioni in Sala Stampa Vaticana, anche Alessandro De Franciscis, presidente dell'Ufficio delle Constatazioni Mediche di Lourdes. C'è una rinnovata attenzione della Chiesa Universale a questa straordinaria e unica relazione che esiste con i malati, le persone malate, i volontari che li assistono, che fa di Lourdes da ormai quasi 160 anni un luogo di grandemente caro al cuore di tutti i cattolici, di tutti i cristiani e direi anche dei non cristiani. Luogo di pellegrinaggio, luogo dove per attrazione alla grotta di Massabieli i malati da subito hanno sentito di essere i benvenuti e di trovare la grazia della guarigione, talvolta del corpo, sempre del cuore e dell'anima. In occasione della venticinquesima giornata mondiale del malato è stata pubblicata la nuova carta degli operatori sanitari, un documento destinato non solo a chi opera nel settore dell'assistenza medica, ma anche a ricercatori, amministratori e legislatori. Un testo riveduto e ampliato sul piano dottrinale e scientifico rispetto alla sua prima edizione, come ci spiega Antonio Gioacchino Spagnolo, ordinario di bioetica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Tutti temi che colgono in qualche modo tutte le fasi della vita, dal nascere al vivere e al morire. Si articola in questo modo la nuova carta, seguendo anche lo schema della carta precedente, quindi tematiche che in questi venti anni dalla precedente edizione hanno avuto bisogno di essere revisionati, proprio perché il progresso scientifico in questi ultimi venti anni è stato molto forte, quindi c'è stato bisogno di tener conto dell'approfondimento scientifico, ma anche di valutare tutte le riflessioni magisteriali dei Pontefici, della Congregazione Pertunina della Fede, della Pontefici Accademia della Vita, che sono stati elaborati nel frattempo e quindi sono stati inclusi all'interno della carta. Una giornata dedicata agli ammalati e a chi si prende cura di loro, sotto lo sguardo di Maria, consolatrice degli afflitti, che illumina il volto della Chiesa, come scrive Papa Francesco nel suo messaggio, nel quotidiano impegno per i bisognosi e i sofferenti. Monsignor Jean-Marie Mupendawatu, segretario delegato del di Castero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Andando a Lourdes, il Papa che ci chiede, chiede a tutta la Chiesa, anche quella italiana, di avere lo sguardo, quindi da oggi al 13 verso la casa della Consolatrix Afflictorum, è un bene che il Papa Francesco ce lo fa scoprire per questo Giubileo d'Argento.